I'm tired of this sauce food, all the hamburgers set on endodogs. Look, I'm ganked in fat. Don't worry, mate. I will show you a place where everybody can go. Italian-Americans like me will feel at home and American people will find a second home. Wow, that's a beautiful and stylish place. It isn't like other Italian restaurants. Hi, welcome to New Hamily. How can I help you? Do you speak Italian? Sure! Vorrei mangiare un pranzo sano, naturale e saporito. Noi ti offriamo tortelli e cappelletti fatti a mano, tortelli con spinaci o zucca e cappelletti ripieni di carne di alta qualità. Come puoi vedere ci sono le nostre signore all'opera. E se sei spesso di fretta ci sono anche lo gnocco fritto o l'erbazzone. E puoi decidere se mangiarlo qui oppure portarlo via. Ciò che contraddistingue il nostro prodotto è la realizzazione tipicamente italiana e emiliana fatta con amore. L'attenzione all'igiene, la produzione artigianale e la qualità degli ingredienti utilizzati. mira a ridurre il più possibile l'impatto ambientale attraverso l'utilizzo di oggetti riciclati. Il nostro locale è situato nei pressi dell'Empestate Building a New York in una zona con elevato traffico pedonale. È composto da ampie vetrate dove è possibile osservare la realizzazione dei nostri prodotti in tempo reale e osservare corsi che mirano all'inserimento in campo lavorativo per garantire loro un lavoro e dignità a persone con diverse abilità. I nostri potenziali clienti sono tutti coloro che vogliono conoscere un nuovo prodotto sia italiano che emiliano. Il nostro principale concorrente è i titani che però a differenza nostra presenta un prodotto con un prezzo elevato e che è molto a contatto delle persone.